Rivoluzioni tecnologiche che stanno trasformando la vita, gli affari e l'economia con una grande attenzione alla biologia molecolare, alla genomica, avanzate e alla genetica. Si è parlato di questo in un importante convegno scientifico nei giorni scorsi organizzato da Rotary con il patrocinio di Comune, ASD, Università e Ordine dei Medici. Si è discusso degli impatti che questi cambiamenti avranno in vasti settori della scienza della vita, con il potenziale di trasformare la comprensione della biologia umana e migliorare la vita delle persone. Il sequenziamento del genoma umano completo, grazie al progetto del 2003, ha rappresentato una delle più grandi innovazioni nel campo della genomica. La capacità di aggredire le malattie, le malformazioni genetiche, le terapie personalizzate, la capacità di analizzare grandi dataset genomici per identificare varianti genetiche e la risposta dei farmaci, come la possibilità di predire in qualche modo le malattie genetiche prima che si manifestino. Tanti temi affascinanti affrontati in un dibattito molto partecipato, che ha visto presenze illustri con la presidente del Rotary, la dottoressa Rosa Persia, Cianari, il rettore Alessi, il dottore Brancati, ordinario di genetica medica all'Aquila, la dottoressa De Luca, medico genetista, il dottor Mattia Capulli, biotecnologo, la dottoressa Masciovecchio, medico legale, primario di oncologia Mutti e medici Papola, Salpietro e Scimitarra.